Hanno finalmente un volto ed un nome i mandanti, gli intermediari e almeno per la procura di Salerno anche i killer di Aldo Otuori ucciso la sera del 25 agosto del 2015 in pieno centro a Ponte Cagnano Faiano. I carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno infatti eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della DDA nei confronti di 5 persone. La prima è di essere stata arrestata dopo essersi reso irreperibile per diverso tempo a Giuliano, utilizzando anche una scheda telefonica intestata ad una persona deceduta, è stato Stefano Cecere, unico tra gli indagati ancora in libertà alla vigilia dell'operazione, stretto collaboratore di Francesco Mallardo, reggente dell'omonimo clan. Gli altri 4 erano già detenuti per altri reati. I 5 sono indagati per omicidio aggravato dal metodo e dalle finalità mafiose. Le indagini hanno consentito di individuare in Francesco Mogavero ed Enrico Bisogni, ai vertici del clan Pecoraro-Renna nella Piana del Sele, come i mandanti dell'omicidio alla base del quale ci sarebbe stato il controllo del trasporto su gomma dei prodotti agricoli. Autuori, all'epoca dei fatti uscito da circa un anno dal carcere dopo una precedente condanna, aveva allestito una serie di attività ritenute concorrenziali rispetto a quelle dei Mallardo Bisogni. Un omicidio per il quale furono coinvolti anche altri ambienti camorristici in virtù dei vecchi rapporti tra il clan Pecoraro-Renna con il cesarano di Castellammare di Stabbia grazie all'intervento di Luigi Di Martino. Anche lui, destinatario di un provvedimento di custodia cautelare, è ritenuto intermediario tra i mandanti e gli esecutori materiali, rivolgendosi a Francesco Mallardo, a capo del clan operante nella zona di Giuliano in Campania, che a sua volta, secondo le ricostruzioni della procura, diede in carico ad Antonio Tesone, alias l'uomo della masseria, e Gennaro Trambarulo, di uccidere autori. Per questi ultimi però il GIP, non ritenendo sufficiente il quadro indiziario, ha rigettato la misura cautelare ed ora occorrerà attendere l'appello presentato. I due autori materiali, ritenuti autori materiali dell'omicidio autori, sono stati identificati nel corso delle indagini. Sebbene il GIP non abbia accolto la richiesta della procura distrittuale antimafia, in ordine alla carenza di indizi, perché ha ritenuto ci fossero degli indizi carenti. La procura però ha già annunciato di voler fare ricorso verso il diniego di questa misura. L'indagine odierna si inserisce in un contesto, in una manovra investigativa che nel corso di quasi quattro anni ha dimostrato appunto il predominio del clan Pecoraro, in particolare del gruppo Mogaviro e Bisogni nella Piana del Sele e soprattutto ha fatto emergere, già con l'indagine eseguita in collaborazione con la Polizia di Stato il 15 aprile scorso, alleanze criminali che il gruppo ha cercato, in quel caso nel settore del traffico di stupefacenti, in questo caso per l'esecuzione di un omicidio. Alleanze con clan addirittura della provincia di Napoli che dimostrano appunto la potenza criminale del clan e soprattutto l'interesse a cercare alleanze perché possono produrre nuove ricchezze.